Appello della polizia di Fano a prestare attenzione ai finti dipendenti dell'acquedotto pubblico che entrano in casa e rubano soldi e gioielli. Si tratta spesso di uomini sui 30-40 anni che parlano senza inflessioni dialettali, indossano una tuta da lavoro o un abito blu scuro con falso tesserino aziendale bene in vista e un arriccio e trasmittente al collo. Con la scusa di dover fare dei controlli, un ladro chiede alla vittima di poter entrare in casa per eseguire delle verifiche all'impianto idrico. Una volta all'interno, dopo aver aperto un rubinetto, afferma di sentire un forte odore. In effetti, tutte le vittime riferiscono di aver percepito un odore di ammoniaca, acre e nauseante, in realtà diffusa d'arte dal ladro utilizzando prodotti chimici. Il falso dipendente dell'acquedotto rimane in contatto via radio con un complice che fingendosi a sua volta un tecnico impartisce una serie di istruzioni operative che contribuiscono a rendere più plausibile la situazione e ad aumentare lo stato d'ansia nella vittima, alla quale, ad un certo punto, viene addirittura prospettato il pericolo di un'imminente esplosione. Di lì, l'invito a raccogliere in una scatola oppure in una busta tutto il denaro e i gioielli per metterli in salvo. Poi, nella confusione che si viene a creare, il ladro sottrae il contenitore con i valori e si dilegua. Diversi episodi come questo si sono verificati anche a Fano e il commissariato, diretto da Stefano Seretti, invita i cittadini a non fare entrare in casa nessun dipendente di aziende di gas, luce, acqua o telefono e a contattare senza indugio le forze dell'ordine.